Eh, come si chiama il cane? Andiamo. Andiamo? Mettiamo conto che tu hai un cane che si chiama Nana. Tu mi dici, andiamo Nana. Andiamo. È più rapido, è più veloce. No? Non oso immaginare come chiamerai tuo figlio. Tu hai cani, gatti, pesci, koala. No, io... Senti, posso farti una domanda un po' indedicata? Tutto questo ogni tanto non ti annoia? Questo cosa? Tu mi scrivi in chat, io ti rispondo, poi tu mi lasci il numero, ma io non ti lascio il mio. Io ti scrivo un messaggio, tu mi rispondi al messaggio. Tutto questo chiaramente cercando di essere brillanti, carini, simpatici, ma invadenti. Ma non è più semplice conoscere uno e dirgli Oh, mi piaci, non sembri un serial killer, scopiamo. Che cazzo, se uno deve mettersi a fare le meringhe fatte in casa per portare a cena fuori una, c'è qualcosa che non va nel sistema, no? Se uno sta cercando la persona da sposare, per carità, possiamo passare anche tutta la sera a parlare di cani, di gatti, di koala. Ma io e te, non faremmo prima andare da me e farci una scopata e vedere una puntata di Stranger Things prima di andare a dormire? Il conto. Guarda che se non l'hai ancora vista puoi rimanere, eh? Non so a che puntata stai. È la prima della terza stagione. Ehm, l'ho vista. Bella però, eh? Molto. Era senza impegno comunque. Ah sì? Buonanotte. Ciao. Dario? Richiamami, ti prego. E' stranzo. E' stranzo. E' stranzo.